Nel 2023 oltre 62.000 persone hanno frequentato le biblioteche civiche spezzine del sistema bibliotecario urbano che vanta oltre 16.200 iscritti con un incremento di circa il 25% rispetto allo scorso anno e richieste di prestito aumentate di circa il 23%. La biblioteca che domina la classifica è la Beghi che in linea con il suo ruolo di biblioteca di pubblica lettura da sola è stata frequentata da oltre 53.700 utenti. Tra le pochissime realtà bibliotecarie civiche italiane la Beghi ha un'apertura al pubblico quotidiana non stop da lunedì alla domenica compresa dalle 8.15 alle 19 e vanta un patrimonio di oltre 39.000 volumi. La biblioteca Mazzini invece è stata frequentata da oltre 5.500 utenti con oltre 350 persone che hanno partecipato agli eventi promossi durante l'anno del centenario dalla nascita di Ubaldo Mazzini che ne fu il primo direttore. Nata nel 1898 detiene il record del patrimonio dei libri conservati di tutta la provincia della Spezia con oltre 143.400 volumi. La terza biblioteca maggiormente frequentata è la Mediateca regionale Ligure a Sergio Fregoso nel cuore del quartiere Umbertino che ha visto nel 2023 2.344 presenze di utenti. Ha un patrimonio molto eterogeneo tra cui 10.340 volumi centinaia di cd e dvd oltre 1.500 vhs un centinaio di audiovisivi e un importante archivio fotografico storico con oltre 10.000 fotografie. Insieme alla Mediateca opera il recuperato Cinema Odeon che in 288 giornate di proiezione con 47 film ha visto la presenza di quasi 8.600 spettatori. Grazie a tutti. Grazie.